E' bello a tutti ragazzi, ben allenati su Ossipet, Lilo e così vi mostro l'anglishark world e anglishark evolution. Allora, io farò due partite che do l'anno tre minuti. Iniziamo con world e poi con evolution. Come potete vedere qua, se si ha world e se ha evolution. Ecco, questo è world. Ecco, la... Ecco, lo scuolo che sto usando si chiama il Mossas. Scrivetemi sotto nei commenti se avete anche voi il Mossas, o mio Dio. Sì, avevo la donna. Sì, avevo la donna. Ecco. Ecco. Che il melgale dolado mi piace a me, lo sapete. Penso anche a voi. Io ragazzi. Oh mio Dio, mi sono bloccato. Oh mio Dio, che buoni i gabbiani. E' il Mossas. E' questa. Papa. Ho portato. Questo. Ho portato il diamante. Oh. Ho portato il diamante. Ho portato il diamante. Oh ho portato il diamante. Oh, qua. Oh, qua. Oh, qua. Oh, la metà tutta no, la metà tutta no. Ecco allora, per meno di un minuto questa partita finisce perché stiamo a due minuti e ti è lenta. Ecco allora, ho la flottola a pochi, ho la flottola a meno di dieci minuti. Ecco, ecco qui, ecco scusate perché l'avevamo arrivati a tre minuti, quindi Anglici Alco World finito. Allora andiamo su Evolution, ecco Evolution, allora andiamo su Evolution, ecco, aspetta. Oh, anzi uso il Mossasolus io, ah no, non l'ho. Ecco, mettere questo Evolution e non a Word, sempre le dite le minuti. Quello che sto usando è il Mossasolus, lo sapete. Ecco, 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 ecco. Ecco, ecco, ecco. Ecco, ecco. si petlillo, va bene e ragazzi uu bella 10 a mia mia mmm che buono il colletti eh ma so se bella 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 e il dolodo a me piace il dololo con lo bianco con il dello si 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 oh ho distillato in elicotelo bella allora a voi vi piace più Angry Shark Evolution Angry Shark World a me l'Evolution cioè quello che sto usando e a voi scrivetemelo sotto nei commenti ragazzi bella 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 uu c'è uno quello bianco la che ma ah ma non riuscivo a mandare beh uu 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 e il dolodo bella e il dolodo bella e il dolodo e mostra se allora meno di 10 minuti si potete ecco ecco ragazzi 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 questo video se vi è piaciuto mettete un bel pollice in su e se e se se non vi è piaciuto mettete un blu pollice in su e scrivetemi un commento mi raccomando e il vostro si petterino vi aspetta ciao mua ciao